Halloween, la notte delle streghe, la notte dei vampiri, la notte dei morti viventi. Stanco dei soliti eventi a base di zucche illuminate? Bene, Ritual è la risposta. Il 31 ottobre trasformeremo le streghe in muse ispiratrici, i vampiri messaggeri d'amore e risorgeremo i morti in nome della libera espressione. Il vero Halloween Party è Ritual, in collaborazione con Radio Rock. Domenica, 31 ottobre 2010, Ritual Halloween Party, Alfeus, via del commercio 36, Roma. Apertura ore 23, trascorri il tuo Halloween a Ritual, se hai il coraggio. Ingresso esclusivamente in dress code, con selezione alla porta.